Il numero di novembre da memorizzare, Vanni l'ha memorizzato completamente. 216 meravigliose paginette con uno speciale auto di 52, grazie Focus pubblicamente. Vi abbiamo chiesto di dire, di indicare delle pagine, anche delle tabelle, qualcosa di particolare, mettere alla prova appunto la memoria di Vanni. Da 1 al 216. Numero 120. Sono i numeri della corsa al coronavirus, dimmi Stefano se sto sbagliando, è il titolo quantomeno. È corretto. Allora, pagina 120 siccome è stata chiesta, in basso a sinistra troviamo le tre fasi dei test clinici sui vaccini. La fase 1 è quella che riguarda alcune decine di persone, la fase 2 invece è quella che riguarda alcune centinaia, la fase 3 alcune migliaia. Se tu vai a pagina 121, la pagina successiva, puoi vedere in alto c'è scritto 44.000. Ma che cos'è questo numero? Il numero di volontari dei test clinici in fase 3 è della Pfizer, che è quell'azienda americana che ora sappiamo ha prodotto questo vaccino che ha un 90% di efficacia. Ancora i dati probabilmente si devono stabilizzare. Sempre non sottolineato, non marcato, nella stessa riga o una riga più sotto, 33.000 a quelli della Moderna, 60.000 a quelli invece della Johnson & Johnson, e sotto vediamo solo 90, e non 90.000. Perché? Perché un test in fase 1 dell'azienda italiana reitera il numero di volontari, dimmi se sbaglio. No, è tutto giusto, è tutto giusto, assolutamente sì. È incredibile, io sono senza parole. No, è che ci sto mettendo più tempo io a leggere che lui, hai capito, a raccontare la memoria, è quello il concetto. Allora, abbiamo anche un'altra pagina, posso? Posso dirla? Sì, quella che vuoi. Abbiamo la 135. Allora, pagina 135 è la 1, 2, 3, 4, quarta pagina di un articolo che inizia a pagina 132, che si chiama La storia del gatto. A pagina 135 vedi un'intera lista di animali, in realtà è l'albero filogenetico della famiglia Felide. Quindi cerchiamo di capire, e in basso invece, sull'asse X, vediamo il milione di anni in cui si sono evoluti. Vai pure a pagina 135, Stefano. Allora, dovremmo cominciare con il gatto domestico, se non sbaglio ti dico solamente i nomi e non il nome della linea in cui si spezza. Dobbiamo avere il gatto domestico, il gatto selvatico africano, il gatto selvatico europeo, il gatto del deserto cinese, il gatto delle sabbie, il gatto dei piedi neri, il gatto della giungla, si spezza la linea del gatto domestico. Io sono rimasto a pagina 1, comunque è la 209. 209. Posso dire che il nostro pubblico è... non lo posso dire. È cattivello? Beh sì, è di più di cattivello. Adesso spiego a chi sta seguendo e chi non avesse la rivista di cosa stiamo parlando. Hanno chiesto la pagina 209 perché la pagina 209 ha un cruciverbo. Allora, quindi... Chi ha focus aperto ancora non l'ha compilato, approfitti del sottoscritto per farlo. Ecco, in pratica cosa ha fatto Vanni ha compilato, cioè ha risolto il cruciverbo e fin qui va bene, niente di eccezionale. Anche perché ci sono le soluzioni a pagina 209. Ah, è per quello, e si è memorizzato tutto. Per cui adesso noi, in pratica, io cosa faccio? Ti chiedo una definizione e tu dici che parola è? È un attimo solo, prima ancora di farlo, io Stefano ti consegno questo. Un cubo di Rubik. È già finito? Però in realtà io ti chiedo un secondo di mescolarlo, allora proverò a dire esattamente le definizioni, o meglio ancora le parole, verticali e orizzontali sulla base del numero che mi chiamerà Stefano, mentre contemporaneamente proverò a risolvere il cubo di Rubik che ha appena mescolato. Tu dimmi quando sei pronto, io non guardo fino a quando non me lo consegni. E intanto prepari il ragù, no, non l'hai ancora fatto, così, per curiosità. Potrei farlo magari. Allora vado e ti chiedo per esempio... Sì, sì, sono pronto. Allora mi guardo il cubo, vai pure. 32 verticali dovrebbe essere lo spazio antistante, le case coloniali dovrebbe essere un'aia. Dimmi solamente se è giusto. È giusto, è giusto. Allora il 20 orizzontale. 20 orizzontale è sapiente. Allora il 45 orizzontale. 45 orizzontale è una sigla ed è SB. Esatto. Ah, questo è rosso. Allora, il 16 verticale. Il 16 verticale è sulla parte laterale destra e si chiama oleo, la parola è oleoresine. Esattamente. Vuoi dirmi il 17 orizzontale? Si estrae dalle miniere e dal carbone. Vabbè, ma c'è qualcosa che non sai. Mettimi di più col tasto. E come faccio? Non si può. Il 54 orizzontale. È l'ultima, è la penultima, perdonami, ed è ricatto. Mi dici l'ultimissima, il 55 orizzontale? Api. Dai Stefano, non so che sto quasi finendo. 23 verticale. 23 verticale dovrebbe essere l'Enfer, mentre invece l'orizzontale lo hanno. Grazie mille di averlo mescolato. Marco, sei ancora connesso? Sono ancora connesso, sono tutti sconvolti, io compreso. Non provate a farlo a casa e se lo fate munitevi di antipilettici. È tutto dal web.